Dove andiamo adesso? Mari... Ponte... Isola del Tesoro... Abbiamo appena superato i sette mari, quindi dove andiamo adesso? Al ponte! Giusto! Al ponte Canterino! Ora dobbiamo trovare il ponte! Where is it? Dov'è il ponte? Sì! Eccolo laggiù! Yes, there it is! Forza! Muoviamoci! Let's go! Signor Si! Andiamo a prendere i nostri costumi! Let's go and get our costumes! Davvero un meraviglioso ballo, amici miei! Che cos'è? È una specie di puzzle! Guarda! Sono io! Se metti in ordine le caselle, viene fuori un disegno! Fammi provare, Desi! Guarda! Il disegno è cambiato! Dovevamo farle vedere cosa fare! Ehi! Afferriamoci le code! Chi non ha la coda, si afferra il posteriore! Provateci! Desi! Finalmente! Ci sei mancata! Oh, grazie! Sono così felice di essere tornata! Non ricordavo quanto fosse bella la mia casa! Sì! Questo posto è fantastico! Ed è bello stare con voi! Credo proprio che rimarrò qui! Evviva! Renata! Inseguila pure quanto vuoi, colloso! Occellino a giurlo! Sei contento? Sì! Anch'io! Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici! Abbiamo salvato l'uccellino a giurlo dallo snick! Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro bello di Bo! Il bello di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare poi! Sta andando il palloncino da festa! Tu riesci a trovare il palloncino da festa? Bomba bombò! Bomba bombò! Bomba bombò! Sta andando il palloncino da festa! Tu riesci a trovare il palloncino da festa? Gli amici non sono altro che un'illusione! Quei contatti sono su te stessi! Per questo è quello che la vostra, allora buona sfonda! La realtà virtuale di quel foro mio fantasma è la mia riuscita! Per cui dobbiamo riuscire a trovare il ponte! Where is it? Dov'è il ponte? Carottina! 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 Corso c'è la c'è la c'è la mia riuscita! Carottina! Carottina! Tu riesci a trovare il palloncino da festa? Mostra e racconta! È arrivata una nuova super mostro favolosa notte alla scuola dei piccoli mostri e ogni mostriciattolo ha portato una sorpresa da mostrare ai suoi compagni! Qual è la storia di oggi, nonna? Non lo so, lo scopriremo insieme! Che cosa avrà combinato il nostro caillou? C'era una volta... Per fare una cheesecake al cioccolato servono 100 grammi di... formaggio... Arr! Cos'è quello? Non riesco a capire cosa stiono costruendo! Wow! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Oh oh! Hanno costruito un motoscafo! Le bolle ci aiuteranno a passare dall'altra parte! Che idea meravigliosa! Wow! Un motoscafo fatto di bolle! Ottimo! Mr. Jones, cominciamo con la storia! Sentiamo se hai imparato la lezione a memoria! Nonna, leggici qualcosa! Una nuova storia di caillou! Va bene, vediamo che cosa ha fatto oggi caillou! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Carotina ha vinto ancora! E la cossa ti addolora! Lo sappiamo, lo sappiamo! Saranno miei! Wow! Un giorno a Teletabilandia, Tiki Winky, Dipsy e Po sentivano arrivare l'ala. Vi piacerebbe ascoltare la storia di caillou e del suo amico molto speciale? La storia di oggi si intitola Caillou e l'amico immaginario. Guarda, un aeroplanino di carta. È chiusa. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super, fantastico! Allora, allunghiamoci! Alti come un gigante! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo. Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'aeroplanino di carta! Andiamo! Nonna, ci leggi una nuova storia di Caillou? Certo, caro! Cosa sarà successo oggi a Caillou? Presa! Grazie, amici miei! Qual è la storia di oggi, nonna? Non lo so, lo scopriremo insieme. Che cosa avrà combinato il nostro Caillou? Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Frank, hai sbagliato il luogo! Katie non vive qui al Polo Sud! Oh, non vedo l'ora che mi vedano ballare! Dora, Dora! Sei pronta a iniziare lo spettacolo? Allora, sei pronta? Sei pronta? Più o meno, Boots! Stiamo solo aspettando che arrivi il furgone delle consegne con le scarpette da ballo. Non possiamo cominciare lo spettacolo senza le nostre scarpette! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la burrasca di bolle! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo! La seconda porta! Un anello! Chissà cosa ci sarà dentro! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Ah? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allungiamoci! Alti come un'asca! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta degli anelli! Dopo di te! No! Dopo di te! Forti! Mille e mille anelli volanti! Per caso vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì! Forza, amici miei! Bisogna entrare in azioni! Che cosa hanno questi anelli? Non ci lasciano passare! Benvenuti nell'autostrada degli anelli! La casa dei cerchi giamelli! Superarli non riuscire! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo riportato tutti i pappagallini nella loro gabbia! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un cane! Con una pettinatura davvero buffa! Noi sappiamo chi è stato ad acconciarlo, vero? Lo strambo acconciatore! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Allunghiamoci! Come una torre! In punta di piedi... Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta del cane con la puffa acconciatura! Oh! Che bel parco! Ma non vedo nessun... Oh! Un super anello rotante! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il ruotamatto! Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a riprendere la bugapalla! Vira! Un super play adesso! Quabbiamo a rapor μπο였습니다! Sì! Piscesse come un bambino! È vero! La terza 이거는 è la moda!